Salve a tutti amici CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 5 dicembre dedicata ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch dal 1 di a venerdì dalle 10 alle 13.30 per tanto Overwatch, invece la sera dalle 21 alle 23 per tanti giochi come Genshin Impact, Tetris 99, Bandico Weissack, Taiko Notazujin e tanto altro. Quindi mi raccomando vi aspetto sul mio canale Twitch oppure potete seguire i miei giornalamenti sul mio profilo social di Instagram e normalmente iniziamo con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo sull'Epic Store è Cave Story, un gioco che io veramente vi consiglio di giocare se non l'avete mai provato e un gioco abbastanza vecchiotto del 2011 però veramente è straconsigliato di giocare se non l'avete mai fatto, quindi mi raccomando provatelo e giocatelo, io finalmente potrò averne l'occasione. Invece altro gioco che stanno dando gratis è Clockwise, un gioco d'avventura horror puzzle game e io mi terrorizzo tantissimo con gli horror game però quando posso cerco sempre di dare una possibilità quindi questo pure mi interessa alquanto, quindi mi raccomando se vi piacciono i giochi horror anche voi per favore provatelo, tanto è gratis. Invece per chi ha l'abbonamento all'Xbox stanno dando gratis Aragami Shadow Edition un gioco che io anche qua vi consiglio di giocare se non l'avete mai fatto è che è il nostro gioco d'avventura ed azione in modalità principalmente stealth e poi io adoro lo stile grafico, è molto bellino, quindi voi che avete l'abbonamento provatelo. Invece altro gioco che stanno dando gratis è 3 out of 10 season 1 che è praticamente una serie di capitoli che completano il gioco questo gioco che comunque è molto irriverente, d'avventura molti irriverenti e davvero vi straconsiglio anche qua di scaricare questo primo capitolo e di giocarlo perché davvero merita un sacco. Invece per i giochi in uscita l'8 dicembre uscirà Shakespeare in a Plane che è praticamente un overcooked, tutto sommato, però ambientato su un aereo e sembra comunque un gioco un po' diverso da giocare magari in 4 giocatori in locale e sembra davvero molto carino e soprattutto è scontato sul nostro sito quindi se volete giocarlo mi raccomando prendetelo da noi. Sempre l'8 dicembre invece uscirà Call of the Sea che è un gioco che sto iniziando a conoscere proprio in questi giorni ed è un gioco d'avventura anche qua puzzle game indie e sembra davvero molto carino, anche qui lo stile grafico mi piace alquanto e sono tentata di portarlo anche in streaming anche perché il nostro sito è scontato quindi se interessa anche voi giocarlo compratelo da noi. Invece questo gioco forse non ha bisogno di presentazioni e sperando che non lo rimandino ancora il 10 dicembre dovrebbe uscire Cyberpunk 2077 che io ho già preordinato quindi nel caso lo streameremo immediatamente il 10 sul mio canale quindi se siete curiosi di conoscere il gioco passate da me. Invece il 16 dicembre uscirà MXGP 2020 di official motocross video game quindi se vi piacciono giochi sportivi di corse principalmente di motocross potrebbe essere il gioco che fa al caso vostro quindi davvero straconsigliate di comprarlo soprattutto compratelo da noi anche perché è scontato quindi mi raccomando. Invece per i giochi super scontati abbiamo un programma che assolutamente dovete avere se volete creare il vostro gioco RPG fantasy preferito ed è RPG Maker MW che è scontatissimo di quasi il 70% quindi assolutamente dovete comprarlo se vi interessa questo tipo di programma assolutamente. Invece altro gioco super scontato dal 75% è Shadow of the Tomb Raider che è un gioco che io effettivamente dovrei giocare e non ho ancora provato. Assolutamente anche voi se non l'avete ancora giocato mi raccomando fatelo poi veramente ragazzi ad un prezzo così basso del genere assolutamente è regalato quindi mi raccomando compratelo e giocatelo. Invece altro gioco che qui super scontato a circa 6 euro e 50 è Dragon Ball FighterZ il famosissimo capitolo di Dragon Ball assolutamente anche questo se non l'avete giocato ancora mi raccomando comprato io poi adoro i giochi di Dragon Ball quindi sono molto tentata di comprarlo e di giocarlo poi veramente a un prezzo così stracciato e regalato. Invece ultimo gioco ma non meno importante a circa 5 euro c'è Darksiders 3 anche qui giocone anche in slash d'azione RPG che vi straccono solo di giocare anche perché è famosissimo quindi mi raccomando provatelo e giocatelo perché è strabello. Comunque con questo ultimo gioco noi concludiamo il video di presentazione del 5 dicembre io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo una prossima presentazione di giochi a presto, ciao!